allora ciao a tutti e benvenuti a questa nuova serata abbiamo ripreso con le dirette che avevamo introdotto in luglio che faceva caldo in settembre fa ancora in cui parliamo di di nuove prospettive aziendali in un mondo incerto e stasera mi accompagna lice manzoni che si occupa è un digital e char consultante del progetto la tua formazione human center ed quindi grazie alice di essere qui con me stasera grazie a te lorenza per l'invito sono molto molto contenta non vedo l'ora di affrontare questo discorso insieme e grazie a voi di essere qui ovviamente come vi abbiamo già detto prima potete intervenire in qualsiasi momento se vi volete mostrare anzi ci fa solo che piacere allora il tema di stasera è un po nato perché un po ci siamo i alice ci siamo commentate su linkedin e poi da lì dal commento ci siamo sentiti abbiamo deciso di fare questa diretta è un po perché era carino parlare di quello che è il mondo moderno no questo mondo moderno che è stato definito buca proprio dai scusami elisa ti devo chiedere non fai interventi ti disattivo l'audio e quindi dicevo in questo mondo che è definito buca ovvero veloce incerto scusate mi sono dimenticata l'acronimo volevo fare la figa che lo sapevo tutto l'acronimo e lo sapevo volatile incerto complesso e ambiguo grazie e che è stato un termine fregato al eh al all'esercito americano che è stato definito negli anni ottanta in cui proprio questo mondo attuale è veloce cambia è un po liquido per citare bauman no quindi c'è un cambio di di mercati eccetera eccetera abbiamo visto col covid l'abbiamo visto eh con la crisi energetica sebbene tra virgolette soprattutto la crisi energetica era un pochettino più ehm cioè si sapeva a un certo punto che sarebbe arrivato un problema del genere però il covid fondamentalmente è stata una di quelle crisi che ha accelerato dei processi di cambiamento che sono lo smart working e la digitalizzazione siamo nell'epoca del 4.0 come si sta sostituendo dal 5.0 quindi stiamo andando in qualunque mercati veloci in cui ovviamente un po' il saper cogliere l'opportunità fa la differenza in termini sia positivi che negativi un po' come si diceva anche prima no Alice prima di certo sono le tue matrici del fatto che eh il mondo è talmente veloce che da una parte si crea un'opportunità ma da una parte bisogna saperle cogliere sì 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 decisamente eh aspetta che sento un po' il ritorno eh infatti aspetta vi chiedo di disattivarvi gli audio ok ok ehm eh sì esatto un po' come diciamo mh la cosa impressionante quando abbiamo abbiamo un po' introdotto il tema stavo riflessendo sul fatto che eh contesto buca eh se ne sentiva già parlare in realtà paradossalmente prima della pandemia quindi eh credo nessun acronimo sia mai stato così tanto mh predittivo come questo esatto perché effettivamente eh i termini che lo ehm che lo che lo compongono eh in pandemia hanno decisamente portato tutta la loro eh il loro impatto e di cambiamento e quello che eh quello che mi dei 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 termini che appunto li ripetiamo così ce li ricordiamo volatilità, incertezza, complessità e ambiguità eh incertezza è sicuramente quello che eh che ci spaventa più di tutti e che ehm ci ha messo di più di tutti di fronte a questo cambio prospettico e come dicevi tu prima ehm cioè che cosa significa poi un cambio prospettico? Significa che non possiamo più continuare a fare le cose come le facevamo prima ehm non possiamo aspettarci che vadano come eh come magari ci possiamo immaginare che possono andare perché poi questo significa incerto questo significa eh ambiguo che non è più appunto prevedibile no? Un un contesto che non è più prevedibile e e se un contesto non è più prevedibile allora tutto quello che io so fino ad oggi in in qualche modo sembra come se mi viene a mancare da sotto i piedi sembra come se non posso più utilizzarlo no? La famosa cassetta degli attrezzi improvvisamente si ritrova ad essere eh inutile e e quindi penso che poi la discussione di oggi possa andare su questo cioè come affrontare eh qualcosa di nuovo che non si conosce ehm e soprattutto mh come affrontarlo ma quindi appunto andando a cercare restando ovviamente nel contesto lavorativo competenze tecniche o competenze trasversali come diciamo prima e competenze più legate a il saper fare o al saper come fa saper fare le cose quasi no? Quindi secondo me poi la complessità invece per tornare a un altro dei termini eh diventa un po' questo che le cose diventano quasi meta cose e quindi non non basta più un eh una conoscenza tecnica appunto ma bisogna cominciare a sviluppare una conoscenza mh appunto meta delle cose a cui a cui ci rivolgiamo e e questo significa semplicemente fare una riflessione su come facciamo le cose su come impariamo le cose e eh su come decidiamo di di affrontare il contesto. Assolutamente condivido poi c'è un discorso eh facendo il discorso dell'incertezza no? Come avevamo detto prima di iniziare il punto è che il cervello umano è pigro nel senso il cervello umano impara delle cose tu gli dai la tua cassetta degli attrezzi e lui la usa perché gli è costata fatica a imparare quelle cose no? Nel momento in cui tu gli dici quelle cose non sono più valide gli togli punti di riferimento il cervello va in crash. È una reazione fisiologica che vada in crash il cervello quando succede qualcosa di nuovo quindi dobbiamo fare già uno sforzo in quella situazione nuova per gestirla. Poi ovviamente c'è l'attitudine si allena perché si allena il cambiamento è una cosa che faccio tantissimo in coaching nelle sessioni di allenare i cambiamenti ma nonostante ci sono persone tanto allenate i cambiamenti fai comunque fatica perché il cervello ha un setting no? Un atteggiamento eh per fare l'esempio che ho fatto anche prima a a alla stessa Alice come vedete io mi sono fatta male alla mano destra e che la mano destra è la mia dominante. Di conseguenza sto usando la sinistra e nonostante questo il mio cervello continua a dirmi usa la destra perché sei più veloce nonostante mi faccia male quindi vedete come nonostante nel pratico mi faccia male la mano io continuo a usarla perché il mio cervello è settato su quell'uso quindi lui fa fatica in questo momento a gestire il passaggio per cui devo forzarmi a usare la mano sinistra e tra l'altro sto anche allenando quindi è un po' proprio già il contesto nostro il nostro cervello non vuole cambiamenti in più culturalmente siamo anche allevati a non avere cambiamenti no? Se pensiamo l'epoca del lavoro in cui eh l'indeterminato ti sposi fai figli segui una certa strada ancora non è finita ancora è molto forte questo retaggio culturale di prevedibilità no? Ti laurei anzi neanche ti laureavi studi facevi il diploma e trovavi lavoro poi diventato studi fa il diploma ti laurei trovi lavoro poi ti sposi o fai casa e ti sposi eccetera eccetera quindi dei passaggi culturali obbligati questi ovviamente non sono più fattibili oggi come oggi per x mila motivi perché non sono non è detto che siano quello che tu desideri perché il mondo è cambiato io stessa quasi 40 anni mese prossimo faccio 40 e io non ho mai voluto comprare casa con la buona pace di mia madre che è disperata ma no hai 40 anni ancora non ti sei comprata casa ancora non ti sei stabilizzata perché per lei è inaccettabile che io abbia rotto un flusso sia così instabile per lei per lei io sono instabile poi mi sono licenziata mi sono messa in partita io quindi ancora più instabile questo per dirvi che il concetto di instabilità e poi anche culturale ad esempio già degli Stati Uniti è più normale avere dei contratti a tempo determinato che cambiano continuamente no? E che quindi tu ti riempieghi nel mondo del lavoro e quindi torniamo un po' all'assist che ha dato Alice è più importante fare o saper imparare? Secondo me è saper imparare perché il fare oggi io oggi so usare il tornio io oggi so le leggi del mercato ma domani so imparare le nuove leggi so imparare i nuovi strumenti? No infatti anche perché cioè purtroppo o per fortuna il progresso comunque non abbiamo un po' l'impressione che non si possa fermare no? E comunque dato che nella nostra epoca progresso troppe volte è sinonimo di progresso tecnologico tendenzialmente e questa sensazione è ancora più forte e sempre cioè di decennio in decennio il progresso tecnologico diventa sempre più veloce e questo nel mondo del lavoro si l'abbiamo visto ormai già diverse volte si traduce in competenze che diventano solete eh figure professionali che spariscono ehm e tutta una serie di di disagi socio-economici che che ne possono derivare però dall'altra parte e anzi faccio prima un'altra riflessione che mi è venuta in mente mentre parlavi prima ehm che secondo me in tutta questa narrativa del cambiamento del contesto VUCA eccetera eccetera che appunto già ehm va avanti da qualche anno secondo me a volte si ha un po' l'impressione o ci è caricata addosso questa impressione del fatto che il cambiamento lo dobbiamo affrontare va affrontato eh perché se no rimane indietro e appunto sviluppa le competenze per affrontare il cambiamento eccetera eccetera però forse dobbiamo fermarci un secondo e fare un passetto indietro proprio in quanto cambiamento è cambiamento e soprattutto in questi contesti che stiamo vivendo è sempre un cambiamento talmente tanto radicale è talmente tanto olistico ehm che non dobbiamo per forza seguire la strada del cambiamento che in qualche modo ci sta venendo messa davanti ma magari possiamo trovare il nostro cambiamento e e proprio quello e quindi appunto quello che stavamo dicendo prima eh necessariamente bisognerà necessariamente sviluppare nuove competenze bisognerà necessariamente uscire un po' dall'ottica di lavoro specializzato come dicevamo prima quindi sarà impossibile secondo me almeno che di eh ovviamente figure super tecniche sarà impossibile avere una verticalità professionale eh ma sarà molto più molto più strategico e e anche secondo me anche più appagante avere un un tipo di mh di competenza appunto che va a mappare e a a riempire più caselle in senso orizzontale piuttosto che verticale e ehm e questo appunto per dire che ehm che poi il cambiamento magari possiamo anche scegliere di di vedere su che cosa di questo cambiamento effettivamente noi possiamo avere eh presa su che cosa noi individualmente possiamo avere un controllo che è sempre che basta eh posso chiedere di disattivare gli audio a meno che non si voglia intervenire ovviamente esatto se volete in quel caso assolutamente tutti benvenuti e e niente quindi dicevo già a volte questi cambiamenti sono sono talmente tanto coinvolgenti che che come dicevo prima sembra che ci travolgano eh se non riusciamo neanche a vedere eh invece quelli quelle piccole sfere in cui possiamo tenere il controllo allora ehm è ovvio che che ecco è più facile farsi travolgere. Certo infatti anche qui è un concetto interessante quello di andare a trovarsi la propria nicchia ecologica eh lo sbatto molto eh sebbene è importante guardare i trend di mercato perché è irrealistico cioè se io oggi voglio usare le sanguisughe per curare la gente nessuno sano di mente però da me ne dico pazzo che voglio usare le sanguisughe quindi è ovvio e solito dal punto di vista tecnologico il punto è eh quindi guardare al mercato però se a me fa schifo il sangue e al momento i medici sono quelli che vanno di più non ha neanche senso che mi butto in una nicchia ecologica che non è la mia perché il mercato è talmente grande ma talmente grande che in realtà se sapete trovare i vostri punti di forza o vi fate aiutare da qualcuno vi assicuro che la collocazione la trovate il problema della collocazione perché spesso si parte dal presupposto che io devo cercare un lavoro stabile quindi qualcosa di stabile che magari non mi non mi non è mio faccio sempre un esempio mh questa ci sono varie teorie sulle intelligenze di cui a me piace moltissimo la teoria di Gardner che parla di vari tipi di intelligenze no noi siamo in un sistema scolastico più o meno italiana italiano barra mondiale che guarda molto pochi tipi di intelligenza la maggior parte guardano intelligenza logico razionale se c'è una fortuna di cadere in quel settore lì e io ho avuto questa fortuna ho molto intelligenza logico razionale sono sempre stata quella di che andava bene a scuola ma io non ho mai fatto sforzo però appena appena si prova sull'intelligenza o linguistica o musicale io vi assicuro che oggi non riuscivo a pronunciare una parola non riuscivo in inglese perché io ho scarsissima intelligenza linguistica ho scarsissimissima intelligenza musicale quando ho provato a suonare uno strumento sono arrivata che il maestro a un certo punto mi ha tolto dalla burca di mano ha detto guarda lascia perdere quindi se io provassi a buttarmi in un settore dove richiesta la musica o anche solo insegna tentassi di fare l'insegnante di lingue ma io non verrebbe nessuno da me mentre invece ho fatto tutte cose che erano in accordo ai miei punti di forza quindi è un po' anche trovate la vostra nicchia ecologica perché se vi muovete su quella è molto diverso il risultato la stessa dice prima mi diceva ho scelto adesso di fare una parte di lavoro in cui io mi diverto mi piace questo che fa la differenza questo viene poi più che altro scusami se ti interrompo eh poi mi piace mi diverte esatto è già è già una vittoria in più ma mi preme sottolineare che la prima vittoria era lasciare un lavoro che mi faccia stare male anche quello perché eh perché mi piace il il concetto di nicchia ecologica perché mi fa pensare appunto alla sostenibilità no in senso listico quindi sostenibile da un punto di vista eh di salute mentale e di salute fisica ovviamente eh economica e e tutta è tutto il quadro che fa stare bene che può fare bene una persona e e tra l'altro mettendo questo discorso mi piacerebbe eh prendere quello che ci diceva Monica eh che esatto che dice personalmente sposo ciò che avete illustrato in merito alle competenze fluide solo che oggi quali sono le aziende che vogliono questi tipi di profilo mi sto scontrando col mercato reale che non mi sembra pronto allora secondo me qua eh inizio a rispondere poi Lorenzo ovviamente eh si scambiamo la palla e mh secondo me qui eh cioè da una parte eh preliminare il discorso che faccio a Lorenza sul conoscersi sul sapere quali sono le proprie i propri punti di forza le proprie intelligenze eh e appunto come invece dicevo io capire che cosa ti fa stare male per intanto escludere tutta una serie di cose e inserirne tutte delle altre dall'altra ancora un piccolo discorso preliminare quello che dicevamo prima cioè decostruire anche quello che ci viene detto dall'esterno cioè eh in un contesto così eh frammentato soprattutto per noi giovani continuare ad avere il necessariamente l'obiettivo del del lavoro stabile è è realistico secondo me è realistico quindi anche questo un'analisi preliminare di tutto questo io ce lo metterei per arrivare poi alla risposta per per Monica ehm eh lì invece la ricerca non va fatta sul contesto ma proprio sulle sulle aziende secondo me perché nel momento in cui almeno per me ha sempre stato così ed ha sempre funzionato nel momento in cui io avevo chiaro che cosa volevo assolutamente escludere e in che in quale direzione volevo assolutamente andare la ricerca delle aziende si riduceva erano di meno sì ma ehm è sempre andata alla fine bene ci stavo pensando proprio oggi pomeriggio alla fine io mi sono sempre ritrovata nei posti in cui sentivo di voler essere e di dover essere perché erano completamente allineati a quello a quello che stavo cercando per andare e questo è ancora un discorso alto per scendere ancora un po' più invece nello specifico ehm sono sicuramente aziende che comunque lavorano sono sicuramente aziende digitalizzate e mh e per fare un discorso anche un po' furbo ehm sono anche le aziende cioè nel momento in cui la competenza diventa più fluida e orizzontale significa che tu stai fare un po' di tante cose diverse in un stesso in un stesso ambito ovviamente e alle aziende questo piace perché comunque ehm più stai più trovano competenze in una sola persona meglio meglio è quindi mh non è un discorso accademicamente giustissimo ma è molto furbo perché per esempio tutte le persone che lavorano nell'ambito social per esempio social media marketing in generale ehm accademicamente esisterebbe un ruolo per il copywriting un ruolo per il grafico un ruolo per il fotografo un ruolo per chi lo pubblica sul social addirittura ma queste quattro cose oggi la maggior parte delle volte tu le trovi in una persona in un'unica persona e quella ok non sarai il copywriter eh mastro eh non sarai neanche il fotografo eh più bravo del mondo vero però sai fare un po' di tutto hai una visione di insieme che a volte può essere anche molto più intelligente e molto più strategica e ehm e sicuramente sono molto più propenso a pagare una persona invece che quattro allora io sì condivido quello che hai detto eh che è fondamentale uno conoscersi e uno sapere anche che cosa non si vuole uno dei problemi di quando per esempio qualcuno arriva da me questa ve la condivido arriva da me dice voglio un lavoro voglio un lavoro non è un obiettivo non è un obiettivo voglio un lavoro io voglio un lavoro che corrisponde a questo mio perimetro di azione quindi che abbia queste caratteristiche che trovo queste cose questo è un eh oppure voglio fare il copywriter questo è un obiettivo voglio un lavoro non è un obiettivo è come dire voglio una vacanza non è un obiettivo questo già crea la prima distonia rispetto al mercato perché se non sapete che cosa volete come accendere il navigatore e dire voglio andare in vacanza il navigatore è lì che ti guarda quindi o vai a caso e quindi se vai a caso che può essere una scelta eh io mi lancio a caso faccio esperienze e verifico è una strada percorribile assolutamente è una strada lunga molto perché nel frattempo devi andare a tentativi per errori tentativi ed errori prima o poi capisci che cosa ti piace cosa non ti piace oppure ti fanno analisi prima e vai a target come ha fatto Alice ma come faccio anche io come insegno alle persone che seguo a fare questo perché il problema qual è quando tu spari nel mucchio è un po' come una rete a strascico qualcosa lo tiri su perché è ovvio matematicamente la legge dei grandi numeri se io tiro una rete qualcosa lo tiro su il problema è che non tiro qualcosa che mi può interessare necessariamente allora poiché ho fatto comunque tanta fatica a tirare quella rete nonostante trovo cose che non mi interessano me le faccio andare bene perché ho fatto fatica ma se invece io sono molto più preciso e puntuale e dico ok invece di fare con la rete a strascico mi fermo faccio una bella analisi e poi dico ok ma io posso andare qui qui e qui oppure mi interessano queste realtà con questi requisiti io come faccio oppure cosa posso offrire a queste realtà perché come diceva Alice trovi una realtà che mette tutti quanti assieme che fa quattro figure in una ma trovi anche altre realtà che invece le quattro figure sono separate allora io posso andare posso decidere mi piace stare in una realtà dove le quattro figure sono una sola o in una più separata scelgo una realtà diverse né giusta né sbaglia sono diverse però se io scelgo l'uno vado l'altro vado a target quindi dopo se io vado in quell'azienda che vuole le quattro figure in una e mi propongo per fare solo uno oppure la mia attitudine è fare solo uno quell'azienda non mi prenderà mai ma perché sono fuori target se invece vado in quell'altro tipo di realtà che va su una sola sulle figure splittate io sono coerente con una di quelle figure è molto più probabile che mi prenda e viceversa questo è un po' anche il discorso che faccio a volte con le persone quando mi parlo in azienda piccola azienda grande no che è tipico delle piccole aziende che le figure sono molto più meno definite molto più fluide no io ho sempre io ho lavorato in tutti e due tipi di realtà ho lavorato in grandi multinazionali farmaceutiche tipo Bayer dove tu spostavi il foglio da destra a sinistra o altre grandi aziende farmaceutiche piccole dove si era praticamente in duecento e fondamentalmente duecento quando siamo cresciuti tanto e vi assicuro che essere in duecento in un'azienda farmaceutica un numero esiguo io mi sono occupata di tantissime cose ho imparato tantissimo per mia attitudine in un'azienda grande non ci so stare sto male quindi anche lì scegliete bene dove muovervi perché più vi muovete in un terreno che è coerente a voi e più siete in siete in usiamo il termine che si usa un po in psicologia in risonanza e più chi fa selezione se ne accorge ricordatevi che chi fa selezione guarda non soltanto le competenze tecniche guarda anche la compatibilità con l'azienda se siete persone che siete adatti a fare un ruolo solo e io sto cercando una persona più multiedrica ma io non prendo una persona che ha è rigida ma che non è sbagliato ma che per me non va bene e quindi poi vi partono le tale non mi hanno preso perché l'età perché così perché così no perché non siete compatibili con l'ambiente e ricordatevi un buon recruiter deve anche guardare questo se non lo guarda è un problema perché finite in un ambiente che state male voi e chi vi gestisce voi e l'azienda esatto ma infatti è per questo che cioè io vedremo molto sulla fase preliminare in cui si prima tua scegliere l'azienda in cui presentarsi in colloquio sono d'accordo con alice quindi assolutamente guarda anche lì siete delle persone innovative aperte al cambiamento ce ne sono di aziende che ragionano così in questi giorni stavo guardando un annuncio di lavoro di un'azienda che non mi ricordo che che azienda era ma era veramente figo non chiedeva un titolo di studio chiedeva solo attitudini attitudini questo è un modo di fare azienda nuovo perché non gliene frega niente dei vostri titoli di studio quindi quella è un'azienda che non guarda neanche all'esperienza guarda al neanche all'età guarda se tu hai quell'attitudine se tu hai quell'attitudine ti prendono quindi è un'azienda che lavora in un modo con una produttività poi anche diversa ecco certo infatti e tra l'altro qui così rispondi anche al al secondo commento di Monica che giustamente diceva il cv molto discontinuo e frammentato a paura che non non la prendano in considerazione per questo e questo io mi rilego esattamente a quello che dicevi tu Lorenza perché ehm un pensiero del genere appartiene al recruiter di non lo so anni fa cioè ormai recruiter di di aziende innovative che stiano ehm effettivamente al passo coi tempi ma al passo coi tempi che significa che anche loro devono necessariamente rifarsi a un contesto di candidati a una platea di candidati che sta cambiando tantissimo quindi in realtà le persone con il cv frammentato eh ormai sono molte di più di rispetto al al passato perché è molto più difficile restare in un'azienda ehm anche cinque anni rispetto a a qualche tempo fa quindi quindi cioè in realtà io poi sono sempre molto startup driven e appunto aziende digitalizzate magari più piccole ma che abbiano un'agilità maggiore e che soprattutto non si soffermino su questi su questi bias del secolo scorso perché ehm perché giustamente come ti riconosci anche tu Monica ho bisogno di stimoli nuovi infatti ho fatto tante cose diverse in un'azienda eh in cui come per esempio l'esempio di prima di Lorenza in cui si guardano le attitudini piuttosto che le competenze ehm tecniche questa potrebbe essere soltanto considerata una ricchezza quindi pure lì a volte come dicevo prima bisogna un po' decostruire quelli che ci sono stati sempre passati come miti perché noi siamo cresciuti col mito delle big four stanno scappando tutti delle big four cioè non c'è più una persona che ci vuole lavorare e quelli che ci lavora non stanno tutte eh in burnout esatto esatto proprio un concetto di di trovare voi il vostro la vostra nicchia ecologica perché di spazio ce n'è è una questione di trovare la nicchia che vi rappresenta e è come diceva anche Alice eh oggi aziende che in cui il recruiter vede discontinuo poi premessa è Monica va anche saputo comunicare quello che ha imparato nel CV ah sì certo brava non è un passaggio banale perché il problema del CV discontinuo se il recruiter lo trova un problema allora un problema è il recruiter però attenta perché è importante che tu metti in evidenza la discontinua cioè il recruiter è comunque una persona quindi tu quello che dico sempre quando faccio fare la revisione del CV tu devi prendere per mano il recruiter e devi fargli capire i tuoi passaggi ma non perché lui sia scemo ma perché anche lì sempre il solito discorso le neuroscienze qua io sono appassionata di neuroscienze il cervello è pigro ma non del recruiter di qualunque essere umano quindi se tu non mi fai capire i passaggi che tu hai fatto dato che io ho delle mie esperienze diverse io non capirò mai tu quello che mi volevi comunicare esempio tipico del che questa è la comunicazione esempio tipico parlate con il vostro partner e ci litigate è un esempio di quello che che succede quando voi scrivete un CV che non si capisce niente perché magari il vostro pensiero è chiaro ma non arriva chiaro all'altro quindi il gioco è far capire all'altro voi che cosa volete dire quando voi avete fatto varie esperienze va benissimo Monica questo è importante ehm quando avete fatto un c quando avete fatto varie esperienze è importante che le comunicate in modo chiaro diretto e con target anche lì che cosa voglio che cosa offro perché questa è un'altra cosa importante anche lì entriamo sempre nel discorso che chi fa selezione ma ripeto chiunque vuole la vostra attenzione e la sua attenzione voi la avete per poco tempo ma perché perché siamo anche in un'epoca in cui la quantità di informazioni che girano è talmente elevata ma talmente elevata che è difficile che le persone abbiano tempo da dedicarvi ma questo ripeto non solo il recruiter chiunque quindi siamo vormandati e leggevo una cosa come dieci centomila stimoli al giorno riceviamo quindi il cervello per proteggersi perché una quantità di stimoli troppo elevata per lui lui li differenzia e decide di mettere nel cestino e questo succede anche al recruiter quindi per questo è molto importante che quando fate un CV sia chiaro e anche altrettanto importante il target perché se io faccio la ballerina e mando il mio CV alla pizzeria sbagliando target le mie competenze alla pizzeria servono no quindi è sempre importante anche quel passaggio lì di andare sul target e comunque ricordatevi come diceva anche Alice di uscire dai miti delle aziende come si diceva il lavoro è stabile potete anche crearvelo io dico sempre una cosa in sessione di coaching se tu offri un sorriso e la gente ti paga per un sorriso è un lavoro chiunque ti corrisponda soldi per un qualcosa di lecito e legale che sia legale è un lavoro quindi capite che cosa sapete fare che cosa sapete offrire inventatevelo il lavoro se è necessario ora non dico di fare tutti le partite IVA perché poi ci dovete essere anche portati vi dovete trovare dovete essere organizzate e quant'altro però non non dimenticatevi che voi potete anche andarvi a creare delle nicchie di mercato in base a voi quindi non vi dimenticate che più vi settate su chi siete e più sapete andare a offrire e come diceva anche la stessa lì c'è sempre il discorso di scegliervi bene l'azienda sì infatti ecco devo dire un'altra cosa che la pandemia ha sicuramente stressato parecchio è stata l'importanza del sapersi raccontare quindi dello storytelling anche digitale perché effettivamente cioè anche come dicevi tu prima il curriculum comunque lo sappiamo più o meno da sempre che non può essere uno strumento efficace al cento per cento per per far per trasmettere un messaggio né per trasmetterlo né tantomeno per riceverlo e quindi quindi da una parte sì mi trovo d'accordo con quello che dici io pure suggerisco sempre comunque un curriculum abbastanza storitellato per dire questo termine orrendo e quindi che che accompagna appunto il recruiter nel comprendere i vari passaggi e poi io in realtà ultimamente mi concentro tantissimo sul sullo storytelling su LinkedIn perché a quel punto hai la possibilità di non soltanto dire cosa sai fare ma di raccontarlo di farlo vedere di mostrarlo giorno per giorno e attraverso anche casi pratici per esempio condivisione di di che stati di di piccoli momenti di di quotidianità in cui fai vedere come come hai risolto un problema come hai gestito una situazione o cose del genere poi poi ovviamente Monica c'è un discorso che è troppo vai specifico sul caso quindi cioè noi ovviamente ora possiamo dare cose indicazioni generiche e generali ma ovviamente poi ogni contesto al alle sue specifiche è vero insomma speriamo di di averti dato qualche suggerimento utile ma no ma figurati Monica di cosa ti scusi anzi hai hai tirato fuori una cosa interessante ma infatti anche sull'azienda quello che vi dico l'avevo scritto anche in un post un po' di tempo fa è importante anche come l'azienda fa selezione ma banale cioè quando eh io abito in veneto andando verso casa di mia sorella ho beccato una cosa che a me ha fatto venire la pelle d'oca infatti poi ci ho fatto un post di questa azienda che è in un'area industriale quindi io ci sono passata perché ci abita mia sorella passo per questa zona industriale trovo un bel cartello cercasi personale anche eh pensionato questo è un indice di un'azienda che è nel milliottocento primo errore non puoi pensare di fare selezione del personale con un cartello fuori l'azienda perché chi cazzo ci passa là fuori punto primo duemilaventidue chi ha mai portato un curriculum a mano io l'ho fatto nel lontano duemilasette che ha ancora portato qualche curriculum a mano alle agenzie interinali ma già le aziende farma non ti facevano neanche entrare a rilasciargli il curriculum perché già le farma avevano tutto il sistema di recruiting online quindi o gli mandavi cv online o neanche ti facevano entrare quindi già stanno sbagliando la capacità di fare selezione vi dice che è un qualcuno che fa selezione con a mio cugino che gliela gestisce perché un recruiter serio non va a mettere su fuori dall'azienda una roba del genere ma la mette in un portale specifico poi eh l'annuncio è finito sul giornale locale anche lì nel duemilaventidue se tu cerchi operai non ti puoi limitare a un'area geografica come quella veneta perché prima di tutto sappiamo che i flussi migratori sono più dal sud al nord quindi non sai se le persone mediamente fanno quel tipo di scuola inoltre poi hanno usato i centri dell'impiego i centri dell'impiego sono poco frequentati dai giovani capite quanti errori sono stati fatti in questa selezione ma tanti e vi fanno capire che se fanno selezione così chi c'è dietro non è un recruiter che sa fare il suo lavoro o peggio ancora non c'è un recruiter ma magari la selezione viene fatta un po' così questo per farvi capire che un'azienda del genere difficilmente sarà un'azienda che vi potrà dare innovazione cambiamento o che andrà a valutare profili che non siano eh tutti esattamente allineate a quello che chiedono quindi se dicono che devi sapere usare il tornio o se usare il tornio quel modello lì magari del 1800 a pedale che lo devi dare tu a pedale oppure non ti chiama quindi capite come questo vi fa capire per questo sceglietevi le aziende che abbiano una vision che abbiano un qualcosa che a voi interessa e questo lo capite veramente anche solo leggendo l'annuncio che tipo di azienda è che un'azienda che ragiona così è un'azienda vecchia un'azienda che probabilmente perché qual è il problema delle aziende vecchie non tanto che l'azienda è vecchia in sé ma perché il problema è quanto resiste al mercato avete presente la kodak anni 90 leader di mercato della fotografia ha fatto una fine pessima la kodak perché perché la kodak non ha saputo vivere i cambiamenti è fallita quindi anche da leader di mercato tu puoi fare una fine orribile 90 per cento di code di mercato ha perso tutto la kodak perché perché non ha saputo vedere i cambiamenti quindi un'azienda che fa selezione in questo modo o trova personale vecchio o cerca personale che lavora in modo vecchio di conseguenza nel 2022 secondo voi rispetto al mercato del lavoro così incerto un mercato del lavoro buca questa azienda ce la farà resistere per i prossimi dieci anni io ho qualche dubbio anche lì domandatevi se volete ti avevamo perso alice scusate la mia collezione volatile e quindi andate a guardare un'azienda quanto sa stare nel mercato perché anche indice di una stabilità per voi io di un'azienda che nel 2022 non sa fare selezione quindi chissà poi le se persone come sono state messe e che mi dimostra che è vecchia come stile come tecnologia io ho dubbi che questa tra dieci anni sia ancora in piedi perché questo è un altro dettaglio non da poco tra dieci anni questa azienda è ancora sul mercato è fatto l'esempio della kodak la kodak è fallita miseramente per l'incapacità di adeguarsi quindi è molto importante che l'azienda sappia adeguarsi perché vuol dire anche quanto vi dà di stabilità voi guardateli questi fattori come si fa a guardare se un'azienda prende le innovazioni se l'azienda mediamente ancora al medioevo certo no bellissimo questo queste riflessioni che stai facendo e mi sto rendendo conto di quanto effettivamente a volte non si abbiano forse gli strumenti comunque per per leggerle queste queste cose tra le righe no perché anche banalmente dall'esempio che hai fatto del ehm del cartello e tutte le tutte le le considerazioni che che ne hai dedotto a me non erano venute in mente tutte quindi mi rendo conto che pure su questo forse bisognerebbe fare molta più eh condivisione della conoscenza un po' come abbiamo imparato a fare sui 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 curriculum che quindi ci passiamo le vari trick su come scriverli su come fregare se cruiter eccetera e però invece forse bisognerebbe anche approfondire come leggere eh che cosa un'azienda ci comunica e che cosa ci restituisce da quello che possiamo vedere no? Eh anche perché poi ecco un po' come se fosse una sorta di eh di gioco tra il gatto e il topo perché eh perché adesso le aziende invece stanno facendo tutta una serie di considerazioni sul sul loro employer branding su quanto apparire attenzione sul loro employer branding su quanto si impegnano per per l'employer branding per migliorare la loro employability affarire attrattive per le nuove generazioni per per i candidati eccetera eccetera ma appunto pure lì bisogna sviluppare un po' l'occhio critico di riuscire a capire quando il fumo negli occhi e quando sono iniziative concrete in questo io stasera molto drastica in questo vi faccio fare una riflessione tempo fa sono stata chiamata da un'azienda che mi lantava eh appunto questa innovatività a cambio di personale e io che sono un po' stronza quando subisco i colloqui infatti non a caso poi mi sono messa a insegnare alla gente come farli come sopravvivere come capire informazioni mi fanno no perché questa azienda è giovane innovativa ok qual è l'età media del consiglio di amministrazione ba 60 anni ok da quanto tempo sono lì ma da quando è nata l'azienda ho detto e quando è che avete fatto l'ultimo aggiornamento abbiamo fatto l'aggiornamento di recente tutto molto nuovo benissimo ma inteso che avete fatto una pittata ho detto perché per me non c'è niente vabbè parliamo di numeri eh cosa qual è il vostro trend di crescita vogliamo crescere ok di quanto eh eh dottoressa sì vogliamo crescere però sai i dettagli non li abbiamo ok una stima dieci per cento venti per cento ah sì il dieci per cento ok benissimo in quali mercati volete espandervi eh vabbè un po' così fermo il colloquio faccio guardi io di venire a lavorare in un'azienda che non ha neanche idea di cosa vuol fare per i prossimi cinque anni che non ha un trend di crescita non sa di come vuole crescere che mi sta millantando che gente ehm che vuole fare cambio giovane e quant'altro che ho detto non è una questione di età ma è gente che ha solo lavorato in questa azienda tutta la sua vita poi tra l'altro era un'area geografica che era la la Liguria che non è un polo farmaceutico quindi stiamo parlando di un'azienda dove la gente c'è nata cresciuta e finisce fino alla pensione cosa che io che ho lavorato nel milanese è impensabile che tu nasci in un'azienda farma e ci passi tutta la tua vita cioè normalmente ogni cinque anni cambi a quel punto ho detto guardi io di venire a lavorare in un'azienda che si millanta giovane millanta di aver fatto aggiornamenti eccetera eccetera ma di fatto di aggiornamento non c'è niente perché probabilmente da qui a dieci anni magari anche fallito ho detto anche no perché non mi sembrate questo grande investimento per me per la mia carriera una professionalità che posso vendere ad aziende molto più interessanti di voi quindi arrivederci e grazie chiuso il colloquio certo questo per farvi capire che anche la qualità delle domande ma giusto per restare nel tema no appunto che eh io infatti batto molto sulle domande che dovete fare colloqui e sulle risposte che vi danno perché le domande sono fondamentali ma anche il tipo di risposta esempio quando un colloquio vi fanno le domande illegali le domande illegali vi fanno già capire che la mentalità è illegale perché se al colloquio è come il primo appuntamento io do il meglio di me ti faccio una domanda illegale tipo sui figli come vuoi gestire eccetera eccetera ma secondo voi quell'azienda pagherà gli straordinari ma anche no perché se già il colloquio è illegale non è questione di etica e basta perché poi qua entriamo nel discorso etica proprio un discorso pratico alcune aziende ha una mentalità illegale al colloquio e te la dimostra ma ringraziate perché vi siete scassati e saltati come si dice in Napoli in un fuos cioè proprio un danno vi siete saltati perché un'azienda che lavora con mentalità illegale al colloquio lo è nel pratico da documentazione magari falsa da straordinari non pagati quindi non pensate che se vi arriva una domanda illegale è perché il recruiter gliel'hanno detto perché il recruiter lo specchio dell'azienda se fa una domanda illegale vuol dire che l'azienda è anche peggio è la punta dell'iceberg dell'illegalità quindi non ci investite tempo non state perdendo un'occasione la state guadagnando ad andarvene infatti la mia idea è colloqui domanda illegale vi alzate gli ridete in faccia e ve ne andate perché non state perdendo un bel niente mi stai proteggendo dalle domande d'accordo vi dicono vogliono crescere ok vi devono dare i numeri non esiste un'azienda che non ha strategia di marketing se non ha strategia di marketing ma orta come avete intenzione di gestire lo smart working come avete intenzione di gestire anche i rincari energetici può essere una domanda da fare oggi si vuoi gestire rincari energetici non da poco non solo per una politica green che qua già entriamo nell'etico che uno può avere o non avere un'etica green anche lì chi mi dice che questa azienda sa gestire i cari energetici non sa gestire chi mi dice che non la chiude quindi non ha in atto delle strategie per muoversi se l'energia costa e tu non hai fatto nulla per proteggere il tuo business chi mi dice che tu il business lo porti avanti no poi esatto non protegge il business no sicuramente non proteggere due persone quindi sì sì no ma guarda discorso assolutamente condivisibile e tra l'altro riaggacciandoci anche a come abbiamo iniziato cioè questo momento di cambiamento veramente lo possiamo prendere dal nostro cioè rivoltare diciamo il coltello dalla nostra parte del manico scusate mi sono un po impicciata e perché eh è questo momento in cui appunto il coltello è dalla parte del manico del candidato secondo me cioè abbiamo molto abbiamo guadagnato molto 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 più potere contrattuale e perché perché cominciamo a dire no eh si comincia a dire no e mh e le aziende che non metteranno in atto dei cambiamenti a questo punto di vista sono appunto allo stesso livello delle aziende che non hanno previsto il rincario energetico secondo me assolutamente è vero condivido io vi posso dire una stima dei trend che ci saranno io conosco molto bene il settore farma perché ci ho lavorato life science life science sta esplodendo ha un disperato bisogno di figure qualificate che voi non avete idea io ho fatto un ruolo molto qualificato che è quello di registrazione dei farmaci fino al 2021 dopo che mi sono licenziata mi sono messa a fare il coach per aiutare le persone a trovare lavoro credetemi mi chiamano ancora per fare il manager e oggi ho visto almeno sette otto annunci di manager in quei ruoli lì e vi assicuro che sono tanti sette annunci per manager in tutta Italia per quel ruolo lì perché di aziende farmaceutiche in Italia parliamo di circa di cinque seicento aziende con dei fatturati che non avete proprio idea perché farma è uno dei settori che fattura di più in assoluto stiamo parlando di circa cinquantamila impiegati in tutta Italia per il farmano quindi comunque un settore molto particolare con tra l'altro gli stipendi più alti tra i più alti in assoluto parliamo di un settore specifico con competenze molto specifiche sette annunci vuol dire un sacco di aziende che cercano non riescono a trovare personale dal senior al junior fanno una fatica boia io negli anni che facevo il manager facevo selezione io facevo prima prendere la gente da zero e formarla perché tanto non la trovavo ho avuto selezioni che duravano un anno non la trovavo perché perché mancano sono proprio skills che mancano sia tecniche che vabbè tecniche io le formavo da zero perché facevo prima ma sia proprio a livello attitudinale perché poi lì manca tutto l'orientamento quindi le persone non sanno andare nei settori che gli interessano e via dicendo questo per dirvi che nonostante tutto che il settore farma è uno di quelli messi meglio perché comunque nonostante tutti i bisogni la gente ci va di più immaginate settori che non stanno trovando niente che non sanno essere attrattivi adesso nel farma io ho le persone che seguo che la prima cosa che dicono soprattutto per i lavori d'ufficio perché ovvio che se sei laboratorio non puoi dicono io voglio lo smart working e le aziende zitte glielo danno perché o gli danno lo smart working o non trovano questo momento ha ragione alice il potere contrattuale in realtà è più forte bisogna saperselo giocare perché ovviamente l'azienda non te lo dice ha il tuo potere più forte del mio giocare le aziende sono vecchie volpi quindi dovete sapervelo giocare e come dice Monica quando ti hanno fatto un colloquio approccio duemila duemilacinque allora ti diverti a mettere in difficoltà il recruiter e gli fai tu delle domande più difficili e vedi come reagisce il recruiter che il punto non è che il recruiter ha trent'anni il recruiter è come è stato formato perché se lui ha imparato in quell'azienda fare dei colloqui di merda mi farà anche delle domande di merda ma se invece avete e questo è grave il fatto che non ti hanno saputo rispondere Monica è grave è grave vi racconto il colloquio di una mia carissima amica un profilo molto alto ingegnere di stabilimento eh quindi non stiamo parlando di un profilo così con diversi anni di esperienza lei è stata fatto un colloquio da una eh da lecciare che vabbè faceva la parte generale quindi non ha fatto domande tecniche e dall'eventuale futuro capo quindi che ha fatto domande tecniche che questa mia amica a un certo punto è arrivata a dirgli forse lei non ha capito la mia risposta perché questo faceva domande che non avevano senso del tipo eh ma lei perché lei gestisce un team di soli uomini perché un profilo tecnico molto specifico lei gestisce solo un team di uomini ma lei come fa a farsi ascoltare dai suoi collaboratori questa è stata la domanda cioè esatto oppure lui a un certo punto lei ha fatto la domanda perché mi ha chiesto a me di prepararla per il colloquio mi fa gli ha fatto la domanda ma lei eh qual è il bello di di aver lavorato in questa azienda no perché poi lei aveva fatto il primo colloquio si era incazzata ha detto no dammi una mano essere stronzo ho detto ok allora io ho detto domandagli qual è la cosa bella di lavorare in questa azienda qual è il vantaggio di lavorare in questa azienda quando questa lei ha fatto la domanda lui ha risposto beh le cose sono due o non sono mai andato via perché nessuno mi ha mi ha voluto oppure sono rimasto qui perché mi piace molto questa azienda e lei ha risposto la sua migliore affiacciata culo le auguro che è stato il secondo caso eh cioè vedete e questo ha fatto capire la pochezza di questa persona di quanto fosse scassa qualitativamente infatti questa mia amica quando il recruit eh il lead hunter che era di mezzo ha chiamato ha detto guarda ma tienitela questa azienda ma tienitela perché io non ho intenzione di andarci certo quindi mi raccomando se non vi sanno rispondere è un indice che l'azienda è scarsa poi per carità il mio approccio è se io in questo momento ne ho bisogno o perché mi serve il lavoro o perché ho delle condizioni tali che io oggi ne ho bisogno allora è diverso però sapete che è un passaggio di transizione sapete che è come il fidanzato che si usa tra una storia se ne un'altra lo sapete ne siete consapevoli questo è sempre la chiave io sono consapevole che questa azienda lavora di merda fa schifo non mi interessa rimanerci ma mi serve perché ho bisogno di cominciare a fare il copywriter devo mettere copywriter in curriculum ma quindi una scelta quindi ricordatevi potete fare anche delle scelte oppure dire io mi sommuove perché poi c'è anche un'altra opzione nel torbido realtà ci si muove meglio vedo che questa azienda lavora male bene io tento di fare qualcosa di diverso perché a volte nel torbido che vi volete vi potete creare delle opportunità esempio che faccio sempre le aziende piccole in realtà se tu se la sai giocare molto bene in termini relazionali puoi fare anche tanta carriera rispetto alle grandi perché una grande molto strutturata i ruoli a volte sono difficili da scalare una piccola invece può essere più semplice quindi anche lì scegliete magari vado in quell'azienda faccio una carriera più veloce mi rivendo una più grande non è mai né giusto né sbagliato l'importante da parte di una vostra strategia che io ti stiamo riperdendo lì sì comunque se volete venire potete anche parlare ora sì sei tornata ora meglio più o meno sei tornata ok più al massimo conclusione di questa riflessione sono molto d'accordo anche su questo sento di nuovo a tratti quindi prova a chiedere se qualcuno vuole intervenire aprite pure i microfoni ecco ti ti rivedo quindi forse potrei anche sentirti adesso non lo so perché io in realtà ti continuo a sentire quindi non riesco mai a capire se mi senti più o meno sì dai provate avviare magari se volete intervenire non siate silenziosi ecco apritevi pure la discussione io se se vuoi un commento che mi viene su quando un commento di contesto cioè mal contato il 96 per cento delle organizzazioni in italia non ha una figura hr interna non esiste gravissimo c'è giusto per settare un po di cosa stiamo parlando noi parliamo tutti i giorni giorni di realtà che rappresentano al meglio il 4 per cento le organizzazioni italiane quindi quando noi facciamo dei colloqui nella grande maggioranza dei casi la statistica vuole che incontreremo una persona non formata per fare dei colloqui che farà domande sbagliate che non dà le risposte giuste e questo bisogna mettersela via e come dice valice se io restringo il mio campo solo io voglio solo aziende che abbiano un certo tipo di organizzazione va bene so in partenza che ne butto via il 96 per cento e come dicevi tu prima non è detto che tutte quel 96 per cento siano aziende che non siano in grado di darmi qualcosa di interessante e non è nemmeno detto che falliranno a breve perché gli esempi sono gli stessi no chi è blackberry li sentiamo fare danni ma quelle aziende falliscono in contesti competitivi mercolio italiano non è un contesto competitivo quindi la fuori è pieno di aziende vecchie di 30 anni che non sono capace di stare sul mercato saranno lì ancora presenta bisogna saperlo perché uno come dire questo può orientare anche la ricerca terzo spunto lo scrivo prima me capita forse perché una generazione non di con generazione intera ma insomma un attacca più di parlare con persone come voi di queste cose in azienda perché sono magari collaboratori me che fanno un percorso quindi si ragiona della loro carriera fuori e io gli dico il lavoro che tu hai in testa là fuori è difficile che te lo offrono ma se te lo offrono brinda ok lo scopo della ricerca di lavoro non è avere un lavoro ma avere un'offerta poi dopo io sceglio se andarci meno quindi brinda ma il lavoro è che tu devi essere abbastanza bravo brava da capire se nell'offerta nel lavoro che hanno in testa loro ci sono i semi del lavoro che ha in testa tu vedere se riesce a entrarle dentro e far diventare abbastanza bravo brava da far diventare quel lavoro il lavoro che ha in testa tu come dicevo prima lavorare di relazione lavorare di competenza una cosa che prende un po di tempo le aziende non sono e a volte io lo percepisco un pochino e secondo me avete ragione essere un po stili dopo tanti anni in cui il candidato era un po schiacciato detto parte sempre alla pari con l'azienda poi dopo un secondo magari si è butto giù da solo ma parte sempre alla pari con l'ho avete atteggiamento un pochino meno traspare dell'uomo primitivo che va a caccia del mammut il mammut fa quel percorso lì no e nessuno lo smuove quello il tracorso dell'ammut invece un primo motivo deve inventarsi delle strategie per essere nel posto giusto nel momento giusto con le lance giuste per riuscire forse le aziende non sono viste da dentro dei mammut le aziende sono molto più deboli sono più mago di oz dove c'è il il sipario un vecchino che suona è molto più fuffa e molta più immagine ma dietro non c'è tutta quella roba che fanno vedere spesso le aziende non sanno cosa vogliono non ne hanno la più panni da idea hanno dei problemi non sanno come risolverli quindi lo spazio di gioco e capire come utilizzare quella quella volatilità di cui parlavamo primo no quella quella imprevedibilità del mercato anche un pochino proprio vantaggio visto che andiamo a prendere dagli eserciti poi sto zitto sono monopolizza ma l'esercito americano di modi di dire non ha soltanto quello e per loro l'imprevedibilità e un dato di partenza che insegnano a west point dicono il miglior piano di battaglia crollo col primo colpo che viene sparato perché poi la realtà si muove con infatti con le dinamiche su e quindi secondo me c'è spazio per tutti i discorsi che fate a me sembra a volte che il rischio quello di eccedere un po nella contrapposizione di vedere l'azienda come qualcosa che contro non è una critica è perché poi ti viene voglia di farlo e se poi gli strumenti per farla a volte come dire di avvelenio lo fai anche solo per divertimento ma se io trovo un'azienda che magari non è all'altezza e non mi dà le risposte giuste e io riesco a giocarmela invece di alzarmi andarmene di come io cosa posso prendere al massimo di un'azienda così poi l'offerta migliore che posso strappare poi magari non ci vado mica sono obbligato tu incomincia a mettere giù un'offerta e magari ve la butto perché alla fine non sei convincente e il rischio è quello un pochino di farsi prendere rischio che ho vissuto e vivo anch'io non farsi prendere un po dall'emozione di rivalsa dire guarda che capra che c'è davanti ti dico tre cose che mi escono dal come dire dalla bocca dello stomaco ti stendo mi alzo vado via mi sento molto figo faccio un posto quando mille cuore però poi se sto cercando lavoro sempre a casa resta quindi è un gioco strategico complesso guarda allora grazie bellissimo intervento io lo condivido pieno e ti dico come detto tu nell'ultimo è una serie di strategia io cosa posso ottenere di meglio da questa realtà partendo da un presupposto che la fedeltà non esiste le aziende questo è un concetto che io cerco di insegnare l'ideale di entrare soprattutto nel 2022 in un'azienda e rimanerci per tutta la vita è un ideale che magari può esistere però è una scelta anche lì è sempre una questione di scelte io cosa posso ottenere di meglio da questa azienda come dicevi tu mi vado a prendere la migliore opportunità poi ripeto uno può anche alzarsi andarsene se vede che quella realtà proprio non gli garba in nessun modo ma se in qualche modo ti garba ti piace e valuti che comunque ha del potenziale io sono d'accordo con te ti devi prendere a casa il meglio che vuoi tanto da dire ok passo sopra a certe cose perché come detto tu le aziende non sono perfette tutt'altro a volte non sanno assolutamente cosa stanno facendo quando a volte cercano dei ruoli non hanno veramente neanche idea del ruolo che stanno cercando ma è fondamentale che tu sappia come rigiocartela è sempre una questione di consapevolezza questa consapevolezza ce l'hai sempre solo se a monte hai fatto tutto uno studio su di te su quello che vuoi perché ci arrivi a fare questi ragionamenti quando tu hai in testa quello che vuoi perché un ragionamento del genere un neolaureato non te lo sa fare ma non perché sia stupido ma mica solo le laureate ma c'è gente che ha vent'anni di esperienza che ragiona ancora ma perché non hanno idea di cosa vogliono e per questo ritorniamo al punto di iniziale che ho detto volere un lavoro non è un obiettivo l'obiettivo come detto tu è strappare la migliore opzione di lavoro a un'azienda già è diverso perché vuol dire che tu già in testa qual è la tua migliore opzione di lavoro quali sono i tuoi criteri quali sono i tuoi standard minimi sotto quali non vuoi andare questo già sta dicendo un qualcosa di molto più definito quali sono le alternative che hai perché alla fine nell'esperienza mia che vale quello che vale ma io solo quella la ricerca di lavoro è una è una in quel gioco lì vince chi ha le migliori alternative se tu hai delle buone alternative ti puoi permettere di fare di dire certe cose in un colloquio se non le hai non ti puoi permettere se tu hai delle alternative te ne vai ad un'azienda tossica se non le hai a volte devi restarci il gioco è costruire se alternativa ci metti degli anni a volte costruire delle alternative io non me la prendo mai con le persone che non trovano lavoro e si lamentano io me la prendo con quelle che non ci trovano che si lamentano sono due cose diverse certo e le si vedono tutti i giorni sono queste persone che la colpa è sempre degli altri sono gli altri che devono cambiare modo di fare le cose perché a me non sta bene ma verso le fatto per agevolare con la linea di pensiero guarda rispondo solo quest'ultima cosa passa la parola dice quello che tu hai detto quest'ultimo punto si chiama l'oxo control si chiama proprio così in psicologia e ci sono le persone che danno la colpa in esterno che tra l'altro è una protezione tipica dell'ego e quando lo fai ovviamente il discorso è se do la colpa agli altri io non devo fare niente e quindi è fare come diceva il buono mer simpson facile dare la colpa a se stessi ma è più facile darla agli altri passo la parola galice beh sì non non ho molto altro da aggiungere a quello che avete avete detto se non che rispetto a quello che diceva max mi sono piaciuti soprattutto due due stimoli il primo era sul fatto che forse a volte nell'approccio alla ricerca e lavoro dovremmo appunto ricordarci o essere consapevoli visto che è un tema che sta tornando del fatto che è molto raro che ci venga offerto il tipo di lavoro che noi abbiamo in testa e questo è verissimo e e fa parte probabilmente un po' di quel mismatch che abbiamo tra la formazione soprattutto noi giovani tra la formazione e poi il mondo del lavoro e e mi piace anche l'approccio che diceva max appunto del parti dal presupposto che non sarà quello che hai in testa ma vedi le alternative che ti offrono l'offerta che ti fanno e gioca le tue carte per arrivare poi invece a un certo punto a costruirtelo o a fare appunto il lavoro che hai in testa e mi piace moltissimo infatti me lo sono segnato e e l'altro l'altra l'altra cosa su cui volevo continuare la riflessione eh giustissimo il punto che che dicevi sul eh sul fatto che che a volte uno si fa prendere un po' dalla dalla vemenza e che poi anche penso per il rispetto anche del lavoro delle altre persone che poi appunto il recruiter purtroppo non è eh non è poi questa è come diceva Lorenza la punta dell'iceberg raramente è il centro focale del potere dell'azienda ehm però a volte ci rifletto su questo su quello che hai detto perché mi rendo conto che eh la vemenza viene facilmente fuori anche secondo me perché facciamo questo lavoro di depersonalizzazione in cui parliamo delle aziende le organizzazioni eh il capitalismo ma eh in realtà sono sono concetti questi non sono non sono cose reali cioè quando io parlo di un'azienda non sto usando un eufemismo sto usando un asineddo che è una metafora scusate è una figura retorica non non è qualcosa di reale e e questo a volte secondo me stimola la il sentimento di frustrazione perché non non hai di fronte veramente qualcosa da di affrontabile appunto quindi quindi sì probabilmente un una buona idea è più che altro eh restare sullo sullo strategico quindi restare eh dove si è eh luce cercate di restare il più lucido i possibili e capire eh che cosa possiamo prendere da quello che abbiamo in quel momento lì lì di fronte questo grazie Max comunque bellissimo intervento anche secondo me molto anche a me è piaciuto tantissimo gli spunti di riflessione che hai dato allora noi siamo in direttura da rivo eh se ci avete qualche intervento ma prima di lasciarvi lo spazio agli interventi volevo postare eh il prossimo evento che faccio che sarà a fine mese il 27 con ehm sulla diretta sull'invidia con Emanuela Spernazzati che qualcuno non so se la conosce su lei è top voice su LinkedIn e parleremo dell'invidia che è un'emozione molto potente e che in realtà tutti la proviamo diciamo che le persone con l'oxo contro l'interno la sfruttano e quindi la trasformano in un propulsore ma invece chi può come diceva anche Max prima dalla colpa agli altri quando la prova non analizza il che cosa gli sta dicendo perché l'invidia come tutte le emozioni non è mai né giusta né sbagliata l'emozione ti dice che c'è qualcosa che qualcun altro ha che tu non hai e invece di dire di stare lì a malignare puoi domandarti che cos'è che l'altro ha che tu non hai e capire come arrivarci perché poi l'invidia si basa anche sul presupposto che magari l'altro non merita quello che sta avendo però tutti paghiamo un prezzo per certe cose il fatto di non vederlo non significa che non ci sia uno degli esempi che faccio sempre in sessione di coaching di quando qualcuno mi dice è quell'altro lì gli hanno dato questo ok ma tu sai quale è stato il suo percorso per arrivare lì domandati qual è il tuo percorso per arrivare allo stesso punto cos'è che ti manca tu mi dici la persona ha fatto la maratona e l'ha vinta eh ma lui l'ha vinta e poi ma tu ti sei allenato per la maratona oppure come ti sei allenato per questa maratona eh ma io ho fatto meno di chilometri ma quell'altra ha vinto ok ma allora forse non hai fatto abbastanza oppure non era giusto l'allenamento oppure non era la maratona che faceva per te magari tu sei un centrometrista quindi attenzione l'invidia secondo me è un'emozione molto potente ed è come la rabbia un fortissimo propulsore a fare meglio se la si sa gestire quindi vi aspetto in questa diretta ma vi richiedo se avete insomma domande invece sul tema della serata abbiamo lo spazio ancora per l'ultima domanda o condivisione sedati non c'è nessuno che risponde vabbè abbiamo lanciato diverse diverse bombe no vabbè comunque sul tema della serata davvero sono d'accordo con Max e anche con Alice c'è una questione strategica una questione che il lavoro che noi vorremmo non esiste a meno che non ve l'ho creato e io dico sempre una cosa e anche lì c'è un prezzo da pagare perché non ci dimentichiamo che la vita tutto ha un prezzo da pagare sei libero professionista hai un prezzo da pagare della libertà di organizzarti come vuoi io domani parto vado in portogallo mi porto il computer ma è successo quando andavo in vacanza e mi portavo il computer eppure so che comunque se c'ho delle urgenze devo avere il computer sotto mano quindi io parto dal computer per certi versi è un prezzo che io sono disposta a pagare quindi anche quando vado in ferio sono disposta a pagare questo prezzo perché sono felice di quello che faccio adesso quindi è veramente una questione tutti nella vita parliamo un prezzo la chiave è sempre trovare il prezzo che noi siamo disposti a pagare che ci fa stare bene come ha detto Alice prima bisogna stare bene sembra strano parlare di benessere sul lavoro però pensiamo che il lavoro ci passiamo almeno 40 ore a settimana poi se fai libero professionista io ne passo non lo so neanche più quante ore faccio di lavoro però quando ero in ufficio io vi giuro conoscevo meglio i miei ex collaboratori di quanto li conoscessero le mogli o i mariti io mi accorgevo di un mio ex collaboratore o collaboratrice di una collaboratrice in particolare quando era incazzata io me ne accorgevo da come batteva le dita sulla tastiera io mi accorgevo se cambiavano i deodoranti perché talmente del tempo che ci passava assieme che io conoscevo tutto e loro conoscevano tutto di me che è inquietante vi assicuro se ci ragionate di quante cose conoscono le persone con cui condividete nel tempo oppure vabbè io lì o bene o male me l'ero scelti perché l'avevo scelto io il team però considerate i luoghi di lavoro in cui non ci state bene qui fate fatica quindi tutto è strategia soprattutto ragionate con le emozioni va bene vi parlano ascoltatele ma come ha detto anche Max siate strategici quindi ok io cosa posso portarmi di meglio a casa da questa azienda da quest'offerta ma su tutti i punti di vista e anche lì per saperlo dovete però sapere quali sono i vostri esercizi che magari non ve ne frega niente dei soldi ma magari vi interessa portarvi a casa un ruolo più alto imparate a negoziare questa è un'altra cosa non da poco a lavorare meno ore non ho sentito di benessere volete lavorare meno volete lo smart working io se c'è una cosa che ho imparato che leggendo un libro di negoziazione inizia proprio così questo libro diceva tutto è negoziabile anche ciò che non è negoziabile io ho detto in che senso è vero meno che non parliamo proprio di situazioni tipo concorsi pubblici là effettivamente non potete muovervi ma nel privato tutto è negoziabile è tutto negoziabile nei limiti legali e illegali anche anche negli illegali anzi forse negli illegali è più negoziabile ancora bene qualche va bene niente allora se non avete ulteriori condivisioni vi lascio il form se volete farvi due chiacchiere con me in privato come coach perché ho spazio per seguire nuove persone nel frattempo io vi saluto ringrazio Alice di essere stata qui con noi stasera che è stata la prima diretta a me è piaciuto tantissimo anche a me molto grazie mi piace molto il fatto di aver interagito con te e con le persone qui presenti grazie Max veramente il tuo intervento è stato magnifico stupendo mi piaceva un sacco grazie a tutti per essere qui se volete ancora condividere qualcosa avete ancora l'ultimo minuto che vi lascio che potete condividere quello che volete se vi è piaciuta la diretta se vi ha fatto schifo a me piace sempre ricevere un feedback in genere infatti faccio la domanda cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto e cosa avreste voluto di diverso se volete farlo lanciatevi pure a darci un feedback a me fa solo che piacere assolutamente anche a me mi andate di feedback se volete allora Elisabetta ci scrive grazie per i consigli al prossimo evento buona serata ciao Elisabetta ciao grazie mille se qualcuno vuole dare proprio invece un feedback cosa vi è piaciuto cosa meno e cosa avreste voluto vedere di diverso anche un argomento che vi piacerebbe vedere a me è piaciuta la maglia viola di Alice mi piace grazie anche a me è il mio colore preferito lo trovo molto piccale e le piante dietro a loro piaceranno un po' meno perché le ho guardate questo sì guarda qui bene dai allora se non avete feedback noi vi salutiamo perfetto vi aspetto al prossimo evento oppure vi aspetto se mi contattate privatamente buona serata e grazie a tutti grazie ancora Lorenza grazie a tutti grazie 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 grazie